Sono andato a vedere Bond al cinema Non andavo al cinema da una vita E adoro andare al cinema E adoro anche andare a vedere questa tipologia di film James Bond andavo da ragazzino a vederlo Insomma ti rimane un po' nella testa, nella cultura, nel cuore, nell'immaginario E poi mi piace lui, Daniel Craig Per me è un attore a prescindere Potrebbe anche cantare Poron Pompero 2 ore 43 Posso stare fermo immobile Daniel con quella faccia lì, con l'occhio di ghiaccio perché io lo guardo uguale, è uno di quegli attori che mi piace così. Ma vi salto il mio giudizio sul film, andatelo a vedere e fatevi la vostra valutazione. Mi piacerebbe parlare del business, del mondo Bond, della strategia, di quelle che sono le scelte che devono fare, perché è una sfida interessante in generale per le aziende e loro sono un caso emblematico, incredibile. No, l'unica considerazione che farò sul film, dai, non posso non farla, la prima parte mi è piaciuta di più, la seconda parte, per un attimo ho chiuso gli occhi e ho pensato, ma sto vedendo John Wick, James Bond, Extraction o Kate, cos'è quel film che ho visto l'altra sera su Netflix, dove c'è una tizia in Giappone che li ammazza tutti, tutti, tutti uno a uno, hanno tutti un po' questa tendenza, però a prescindere da quello, vediamo i numeri di Bond, anzitutto quanto spende quanto in casa, come sono divisi anche gli incassi. La grafica migliore che ho trovato in giro, se ne avete dei migliori mettetela nei commenti, quella di The Hustle, The Economics of James Bond Film, avevano fatto un'analisi su Skyfall, nel 2012 aveva incassato un miliardo e cento milioni. Allora, come dividono le entrate? Di questo miliardo e cento milioni, quattrocento milioni vanno ai cinema, produzione centottantasei milioni, pubblicità centodiciassette milioni, e poi hanno altre costicelli di una cinquantina di milioni. Gli incassi, invece, Sony 57 milioni, MGM 179 milioni, Broccoli Family 109 milioni. Questo è ovviamente il dato vecchio, immaginiamo che sono passati un po' di anni, e a livello di costo di produzione, l'ultimo film di James Bond, dai dati che sono riuscito a recuperare, sarebbe costato una cifra intorno ai 300 milioni, tra i 250 e i 300 milioni. Peraltro questo dato è precedente all'acquisizione di MGM da parte di Amazon per 8 miliardi e 450 milioni, insomma per, diciamo, 8 miliardi e mezzo. Allora, prima considerazione su Bond, costi e entrate a parte. La strategia per il futuro di James Bond è interessante da capire quale sarà. Pensate quanto sia difficile fare delle scelte. Immaginate di essere voi, la famiglia Broccoli, che sapete detiene il 50% dei diritti bondeschi da sempre, ed è quella molto severa sulla scelta creativa, sul casting, su chi deve essere l'attore, sulle parole precise che vengono usate, sulla pubblicità, cioè hanno il controllo artistico-editoriale e contenutistico. Provate a mettervi nei loro panni. Dovete decidere tra due anni, tre anni, quattro anni, quando esce il prossimo Bond, chi è l'attore, anzitutto, o l'attrice. La Broccoli, l'ho sentita in recente un'intervista, ha detto no, 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 è un carattere maschile James Bond. Va bene, però sai, anche Steve Jobs diceva non faremo mai un cellulare e un mese dopo hanno lanciato l'iPhone, quindi io le dichiarazioni le prendo sempre un po' così. Però è un punto interrogativo. Il mondo sta cambiando. Tieni sempre lo stesso sistema e lo stesso approccio a James Bond, è uomo, è fine, oppure cerchi in un qualche modo di testare. Ad esempio, una interpretazione del personaggio femminile presente, no, 007 in questo nuovo film, è quello di capire, testare un po' il terreno e vedere se potesse essere, potesse diventare il nuovo James Bond, essere una donna. Oppure un'altra decisione che devi prendere tra tre anni, quattro anni. Come sarà la cultura? Quali sono i valori? Che cos'è che risuona nella testa delle persone? Tieni sempre James Bond uguale a come è sempre stato e allora lo ancori alla tradizione, ma lo stacchi dalla realtà del momento? Oppure, ad esempio, vai a fare il casting di un attore giovane, il cantante lì di One Direction, o non so chi, insomma, uno giovane sbarbato, che in un qualche modo ti tira dentro un pubblico diverso, che non ha James Bond nel DNA e nel sangue come noi diversamente giovani, e te lo porta avanti per le prossime generazioni. Questa è un'altra scelta da prendere. Quanto lo stacchi dalla realtà di James Bond, da com'è nato e da come si comporta, perché James Bond è gli inizi, ve lo ricordate, Roger Moore, Sean Connery? Era un James Bond uomo, molto rude, no? Rispetto all'universo femminile, la donna era una donna oggetto. Oggi non la puoi più giocare quella carta lì, non sta più in piedi, è cambiato tutto, no? E quindi, infatti, vedete, gli ultimi film di Bond hanno un rapporto molto più bilanciato tra Bond e l'universo femminile. E allora questa è un'altra scelta, ed è una decisione proprio strategica da fare. Il problema è che se lo stacchi troppo, anche a livello produttivo, ti diventa come Fast and Furious, Mission Impossible, John Wick, e allora non vedi più qual è la caratteristica univoca di Bond. Se lo tieni troppo attaccato alle origini e non ti muovi di lì, le nuove generazioni probabilmente dicono, vabbè, ma questo qui, chi se ne frega, un uomo bianco, cinquantenne, al servizio della regina Inghilterra, Inghilterra, ho capito, ma io vivo in Asia e a me che mi frega, no? Quindi è difficile, decisione complessissima, dove, boh, non so come faranno, lanceranno i dati. L'altra considerazione è che Amazon ha comprato, come dicevamo prima, il 50% di MGM per 8 miliardi e mezzo. Cosa cambierà? Una prima valutazione cambierà? Qualche cosa dal punto di vista editoriale? No, perché la famiglia Broccoli ha il controllo, però sappiamo anche che poi, quando hai queste grosse realtà che spingono e ti mettono la pressioncina, ti mettono il gomitino lì e iniziano a premere, qualche concessione, magari la fai, se potrebbe essere un'idea. Però la famiglia Broccoli ha sempre dimostrato di essere molto invece ligia e attenta a proteggere il proprio bambino, il proprio baby bond. Però che cosa cambierà a livello distributivo? Va tutto su Amazon Prime e saltano i cinema, tengono i cinema, ma poi subito, nello stesso momento in cui vai al cinema, lo trovi anche su Amazon Prime? L'universo Bond verrà fuori tipo l'universo Marvel? Immagino di sì, adesso io non ci capisco niente, però uno si immagina che la strategia sarà quella di succhiare il più possibile da questa proprietà intellettuale per cercare di tirar fuori dei sottoprodotti che possono funzionare, sottoprodotti intesi come prodotti che non siano solo James Bond, ma anche magari fa il film su Q e fa il film su 007 Donna per il pubblico femminile e via così, no? è solo sul cattivo. Se ci pensiamo sono tutte scelte queste di business, non sono scelte basate su quello che dovrebbe essere la naturale storia di quel personaggio, perché il personaggio una volta che tu hai pagato 8 miliardi e mezzo, vuoi che quello renda? Non puoi dire vabbè basta, adesso James Bond non c'è più. Cosa tiriamo fuori James Bond? Al lavoro per tirare fuori un universo di personaggi vari che magari a quel punto un po' come Black Widow o delle declinazioni del film principale, non dell'universo Marvel, a quel punto poi hanno una loro vita autonoma e hanno tutto il loro merchandising autonomo. Crei tante tante linee di business da un unico personaggio come è ad oggi il buon vecchio James. Così, sono curioso di vedere cosa faranno e sono curioso di vedere come interpreteranno la cultura, perché in base a questo anche noi, piccoli imprenditori, possiamo capire come si muove il mondo, come vedono queste aziende il movimento planetario, dei gusti, ecco che è una cosa difficile, sempre da comprendere, staremo a vedere, nel frattempo vi saluto, il mio nome è Bond, Monty Bond.